Le sirene suonano e Israele si ferma. Anche questo giovedì eventi per celebrare il giorno della memoria è iniziato mercoledì in memoria dei 6 milioni di ebrei uccisi dalla Germania nazista e dai suoi collaboratori di una seconda guerra mondiale. Le 24 ore di ricordo sono iniziate al tramonto del primo maggio con la cerimonia principale a Gerusalemme, allo Yad Vashem, il memoriale dell'olocausto. Il presidente Rivlin ha parlato dell'antisemitismo montante e ha affermato che ancora una volta l'odio rialza la testa, alimentato da ondate di immigrazione, dalla crisi economica e dalla disillusione nell'establishment politico. Rivlin ha nemmeno troppo velatamente criticato il discusso premier Netanyahu, esortando il governo a ripensare la coltivazione di alleanze con i partiti nazionalisti e sovranisti in Europa. Secondo il calendario ebraico, il giorno della memoria è l'anniversario dell'insurrezione del ghetto di Varsavia nel 1943. Le celebrazioni continuano questo giovedì, fra l'altro con un paio di minuti di sosta in tutto il paese per ricordare i morti e perché quell'abominio non si ripeta mai più.